Maestro allora a caldo? Tutto bene, un grande risultato come sempre ce l'abbiamo fatta e spero che continuiamo così. I ragazzi poi ce la mettono tutta, si allenano e quindi hanno dato il massimo e ottenuto il massimo. Come si può dire quattro gatti ma hanno... quattro gatti ma quattro gatti buoni. Hanno portato a casa un buon risultato no? Un bel bottino. Si può fare sempre meglio comunque. Sempre, sempre il meglio, si deve allenare sempre di più e portare avanti ancora, anzi prepararsi per il prossimo mondiale che si farà in Egitto e quindi sarà in Egitto, sperando che gli stessi porteranno altre medaglie, continuando il percorso. Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.